Roberto Girometti cosa pubblicitaria che feci mettere sotto gli adulti devono essere accompagnati da bambini un viaggio per i più piccoli dai 7 ai 150 anni perché c'è quella bellissima frase che non mi ricordo se ho detto di un signore che si chiamava Friedrich Nietzsche preso da tutti per pazzo è stato pure manicomio infatti non potessi che amico mio che ha detto una frase bellissima nel vero uomo è nascosto un bambino che vuole giocare e l'unico peccato che io riscontro nelle persone è che tutti sono diventati un po' cattivi e non vogliono più giocare questo è un grosso difetto anche nei confronti dei bambini quindi l'appello è quello di tornare bambini è la cosa più semplice se tu vieni dopo là io ho un libro nella mia borsa che ci ha scritto storie per tornare bambini è scritto non so da chi insomma però me lo so comprato subito perché è troppo bello quindi facendo un bilancio della giornata com'è andata? beh mi pare che è andata benissimo insomma hai visto è vero che c'erano anche dei grandi ma mi sembra giusto perché i bambini di 6, 7, 8, 9 anni non possono andare in giro da soli però quando ho fatto quando sono sceso dal palco con il microfono in mano e sono andato dai bambini per sapere se si erano divertiti o meno mi sembra insomma che siano divertiti chi gli era piaciuto per questo poi è stato divertente l'ultimo bambino che non mi aveva visto che ha detto Riccardo come ti chiami? dice Riccardo Riccardo tu che ne pensi? e lui che arriva mi ha detto io sono arrivato adesso non ho visto niente stava troppo divertente